In data 17 ottobre 2018, visto l'articolo 18 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267, è ritenuto che sussistono le condizioni ivi previste sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è legata al presente decreto e ne costituisce parte integrante decreto. Si concede al Comune di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, il titolo di città Roma, 9 ottobre 2019, Sergio Mattarella.